La conduttrice inaugura la sua nuova annata televisiva con lo sbarco e Rai per una sera chiamata da Conti in contrada. La nuova stagione televisiva è alle porte, dai canali Rai a quelli Mediaset. Il 9 e il 10 settembre prossimo. In prima serata su Rai 1 in diretta dall'Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa in contrada presenteranno la quindicesima edizione dei Seat Music Awards 2021. Ormai la manifestazione è diventata l'evento musicale live dell'estate tv, messo in soffitta il Festival Bar. Eccezione fatta per battiti live che via via si sta avvicinando al flop, gli awards rappresentano un'occasione per fare il punto della discografia con la consegna di numerosi premi a chi. Tra giugno 2020 e settembre 2021, ha conquistato certificazioni d'oro, platino e multiplatino sia per gli album che per i singoli. Quest'anno il palcoscenico dei Music Awards 2021 ospiterà non soltanto cantanti, ma anche star del piccolo schermo. A grande sorpresa su Rai 1 arriva Maria De Filippi. La conduttrice, sul palco dell'Arena di Verona, ritroverà Carlo Conti e Vanessa in contrada. Con il primo ha condotto il Festival di Sanremo 2017, mentre con l'attrice ha stretto negli anni precedenti delle collaborazioni per averla in giuria ad amici. Si tratta soltanto di una semplice ospitata. Molto probabilmente sarà lei a consegnare un premio per le vendite ad alcuni ragazzi di amici. Questo, però, rappresenterà un modo di vederla in televisione prima degli inizi di Uomini e Donne e della ventunesima edizione del suo Talent. Proprio sulla rete di Stefano Coletta la De Filippi doveva condurre con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferigli un evento contro la violenza sulle donne lo scorso anno. Poi non se ne fece più niente. Tra i cantanti e ospiti musicali che saliranno sul palco dell'Arena di Verona durante i Seat Music Awards va segnalata la presenza di San Giovanni. Il talento lanciato dalla scuola di amici di Maria De Filippi. Con il suo primo album e i singoli Malibu. Ipe, tutta la notte Lady, ha ottenuto un grandissimo consenso da parte del pubblico tanto da meritarsi il premio. Premio che sarà consegnato dalla moglie di Costanzo. Sul palco dei Seat Music Awards, oltre a Maria De Filippi e San Giovanni, ci saranno anche Marco Mengoni. Ligabue, Claudio Baglioni, Gigi D'Alessio, che diventa padre per la quinta volta. Loredana Bertè, reduce da un intervento, Marrakesh, Marco Giallini, Diodato. Zucchero, Giorgio Panariello, Madame, Alessandra Amoroso, Achille, Il Volo. Fiorella Mannoia, Amadeus, Emma, Annalisa, Mahmoud, Pio e Amedeo. Arriveranno anche Alessandro Siani. Takagi, che tra Giussi Ferreri, con la pesce di Martino, Carl Brava e Noemi. Ospite sarà anche Alessandro Cattelan, fresco acquisto della Rai. Arriv태 things per ora. Frari di Maria De Filippi. Raogo